Abbiamo appena rilasciato l'aggiornamento 2.2 per il nostro Eagle Core, che aggiunge il supporto a diverse camere ZVO ASI per l'autoguida e abbiamo aggiunto anche il supporto a molte altre Canon EOS per la cattura. Vediamo come installarlo. Utilizzando lo spesso dispositivo che poi utilizzerete per aggiornare Eagle Core, accedete al nostro sito e quindi selezionate il collegamento alla pagina Downloads. Andate in fondo e cliccate sul link per scaricare il firmware 2.2 di Eagle Core. Quindi selezionate la connessione Wi-Fi del vostro Eagle Core ed entrate nella Eagle App. Qui nel menu laterale selezionate Update e quindi il primo file dell'aggiornamento. Cliccate OK per procedere. Dopo aver sentito il beep del vostro Eagle Core, selezionate nuovamente la connessione, accedete alla Eagle App e quindi di nuovo nel menu a sinistra selezionate Update e questa volta selezionate il secondo file. Premete OK per procedere. Dopo aver sentito un altro beep, selezionate di nuovo il collegamento Wi-Fi del vostro Eagle, accedete alla Eagle App e verificate che in alto a sinistra sia riportata la versione 2.2 del firmware. Il vostro Eagle Core è aggiornato.